178 nuovi casi di covid in Abruzzo su 3668 test, ovvero il 4,85% dei risultati delle ultime 24 ore. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 1 e 92 anni. 89 sono della provincia dell'Aquila, 32 di quella di Chieti, 15 di quella di Pescara e 36 di quella di Teramo, mentre per altri 6 sono in corso verifiche per accertarne la residenza. 86 dei nuovi casi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 17 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 491. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 2160 più 167 rispetto a ieri. Di questi 167 pazienti, più 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 11 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri, i 1972 più 148 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.